Passo immediatamente la parola ad Alessandro Manzoni e a Benedetto Croce che parleranno attraverso Tony Servillo. Dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, capitolo ottavo. Don Abbondio stava, come abbiamo detto, su una vecchia seggiola ravvolto in una vecchia zimarra, con in capo una vecchia papalina che gli faceva cornice intorno alla faccia, al lume scarso di una piccola lucerna. Due folte ciocche di capelli che gli scappavano fuori dalla papalina, due folti sopraccigli, due folti baffi, un folto pizzo, tutti canuti e sparsi su quella faccia bruna e rugosa, potevano assomigliarsi a cespugli coperti di neve, sporgenti da un dirupo al chiaro di luna. Ah, fu il suo saluto mentre si levava gli occhiali e li riponeva nel libricciolo. Dirai, signor curato, che son venuto tardi, disse Tonio inchinandosi come pure fece ma più goffamente Gervaso. Sicuro che è tardi, tardi in tutte le maniere, lo sapete che sono ammalato? Oh, mi dispiace, l'avrete sentito dire, sono ammalato e non so quando potrò lasciarmi vedere. Ma perché vi siete condotto dietro quel figliolo? Così, per compagnia, signor curato. Basta, vediamo. Sono venticinque berlinghe nuove di quelle col Sant'Ambrogio a cavallo, disse Tonio, levandosi un involtino di tasca. Vediamo, replicò Don Abbondio, e preso l'involtino si rimesse gli occhiali, l'aprì, cavò le berlinghe, le contò, le voltò, le rivoltò, le trovò senza difetto. Ora, signor curato, mi darà la collana della mia tecla. È giusto, rispose Don Abbondio. Poi andò ad un armadio, si levò una chiave di tasca e, guardandosi intorno, come per tenere lontani gli spettatori, apri una parte di sportello, riempì l'apertura con la persona, mise dentro la testa per guardare e un braccio per prenderla collana. La prese e, chiuso l'armadio, la consegnò a Tonio dicendo, va bene? Ora, disse Tonio, si contenti di mettere un po' di nero sul bianco. Anche questa, disse Don Abbondio, le sanno tutte. Iiii, come è divenuto sospettoso il mondo. Non vi fidate di me? Come, signor curato, se io mi fido, lei mi fa torto. Ma siccome il mio nome è sul suo libraccio dalla parte del debito, dunque, giacché ha già avuto l'incomodo di scrivere una volta, così, dalla vita alla morte, bene, bene, interruppe Don Abbondio, e brontolando tirò a sé una cassetta del tavolino, levò fuori carta, penna e calamaio e si mise a scrivere, ripetendo a viva voce le parole di man mano che gli uscivano dalla penna. Frattanto Tonio e a un suo cenno Gervaso si piantarono ritti davanti al tavolino, in maniera di impedire allo scrivente la vista del luscio. E come Perozio andavano stropicciando copiedi il pavimento per dar segno a quei che erano fuori d'entrare e per confondere nello stesso tempo il rumore delle loro pedate. Donna Abbondio, immerso nella sua scrittura, non badava ad altro. Allo stropiccio dei quattro piedi Renzo prese un braccio di Lucia, lo strinse per darle coraggio e si mosse tirandosela dietro tutta tremante che da sé non vi sarebbe potuta venire. Entraron pian piano in punta di piedi rattenendo il respiro e si nascosero dietro i due fratelli. Intanto, Donna Abbondio, finito di scrivere, rilesse attentamente senza alzar gli occhi dalla carta. La piegò in quattro dicendo «Ora sarete contento» e levatosi con una mano gli occhiali dal naso la porse con l'altra a Tonio alzando il viso. Tonio, allungando la mano per prendere la carta, si ritirò da una parte. «Gervaso ha un suo cenno dall'altra e nel mezzo, come al dividersi d'una scena, apparvero Renzo e Lucia». Donna Abbondio vide confusamente, poi vide chiaro, si spaventò, si stupì, si infuriò, pensò, prese una risoluzione. Tutto questo nel tempo che Renzo mise a proferire le parole «Signor curato, in presenza di questi testimoni, questa è mia moglie». Le sue labbra non erano ancora tornate, al posto che Donna Abbondio, lasciando cadere la carta, aveva già afferrata e alzata con la mancina la lucerna, ghermito con la diritta il tappeto del tavolino e tirandolo a sé con furia buttando in terra libro, carta, calamaio e polverino e balzando tra la seggiola e il tavolino si era avvicinato a Lucia. La poveretta, con quella sua voce suave e allora tutta tremante, aveva appena potuto proferire, e questo che Donna Abbondio le aveva buttato sgarbatamente il tappeto sulla testa e sul viso, per impedirle di pronunziare intera la formula. E subito, lasciata cadere la lucerna che teneva nell'altra mano, si aiutò anche con quella a imbaccuccarla col tappeto, che quasi la soffogava, e intanto gridava quanto n'aveva in canna «Perpetua, perpetua, tradimento, aiuto!». Il lucignolo che moriva sul pavimento mandava una luce languida e saltellante sopra Lucia, la quale, affatto smarrita, non tentava neppure di svolgersi e poteva parere una stato abbozzata in creta, sulla quale l'artefice ha gettato un umido panno. Cessata ogni luce, Donna Abbondio lasciò la poveretta e andò cercando a tastoni l'uscio che metteva a una stanza più interna. Lo trovò, entrò in quella, si chiuse dentro gridando tuttavia «Perpetua, tradimento, aiuto!». Fuori di questa casa, fuori di questa casa!». Nell'altra stanza tutto era confusione. Renzo, cercando di fermare il curato e remando con le mani come se facesse a mosca cieca, era arrivato all'uscio e picchiava gridando «Apra, apra, non faccia schiamazzo!». Lucia chiamava Renzo con voce fioca e diceva pregando «Andiamo, andiamo, per l'amor di Dio!». Tonio Carpone andava spazzando con le mani il pavimento per vedere di riaccapezzare la sua ricevuta. Gervaso, spiritato, gridava e saltellava cercando l'uscio di scala per uscire a salvamento. In mezzo a questo serra-serra, non possiamo lasciar di fermarci un momento a fare una riflessione. Renzo, che strepitava di notte in casa altrui, che vi s'era introdotto di soppiatto e teneva il padrone stesso assediato in una stanza, a tutta l'apparenza di un oppressore. Eppure, alla fin dei fatti, era l'oppresso. Don Abbondio, sorpreso, messo in fuga, spaventato, mentre attendeva tranquillamente ai fatti suoi, parrebbe la vittima. Eppure, in realtà, era lui che faceva un sopruso. Così va spesso il mondo. Voglio dire, così andava nel secolo X-XVII. L'unità della lingua italiana dà estetica come scienza dell'espressione di Benedetto Croce. La questione dell'unità della lingua ritorna sempre in campo perché, così come è posta, è insolubile, essendo fondata sopra un falso concetto di ciò che sia la lingua, la quale non è un arsenale di armi belle e fatte e non è il vocabolario che, per quanto lo si faccia progressivo e dell'uso vivo, è sempre cimitero di cadaveri più o meno abilmente imbalsamati. Io non vorrei, con questo modo alquanto brusco di troncar la questione della lingua modello o dell'unità della lingua, apparire men che rispettoso verso la lunga tratta di letterati che l'hanno per secoli agitata in Italia, e specialmente verso l'ultimo e grande promotore di essa, Alessandro Manzoni. Soggiungerò dunque che, a mio parere, il problema vero che travagliava il Manzoni era di esteticità e non di scienza estetica, di letteratura e non di teorica letteraria, di parlare e scrivere effettivo e non di scienza linguistica. E il male fu solo che, nella testa rigorosa e logica e dalquanto sofistica del Manzoni, la soluzione pratica che egli ne dava assunse l'aria, che non le conveniva, di una tesi scientifica. Respinger questa tesi non significa affermar che il Manzoni e i suoi seguaci si muovessero nel vuoto. Sotto la bandiera levata dal Manzoni scendevano in campo i bisogni spirituali d'Italia nei tempi nuovi, le esigenze unitarie e democratiche, la reazione contro il formalismo pomposo della vecchia Italia e via dicendo. Si trattava, insomma, di impressioni nuove, che chiedevano nuove espressioni. Il fatto era serio, benché la tesi scientifica, messa innanzi per giustificare quelle tendenze, fosse inammissibile. E la questione rimasta insoluta in teoria o mal risoluta con la falsa teorica del fiorentinismo è stata risoluta invece appunto nel fatto. Chiunque parla e scrive ora in Italia ha sentito l'efficacia del movimento promosso dal Manzoni. gli stessi avversari l'han sentita.